Ciao, buongiorno, mi chiamo Nicco Pagan, sono sette anni, abito a Cazia, seconda B è in Italia. Mi piace giocare, mi piace videogame, mi piace kids, perché parare, danzare, cantare. Mi piace Natale e telefono plus, perché? Per cambiare la famiglia e vedere mio padre a Dubai, grazie mille. Ciao a tutti, sono Princess Chanel Gavino e ho otto anni, studio a Fratelli Bandiera e faccio la testa elementare. A chi sono, mi piace ballare e a Natale vorrei vivere con la mia sorellina e con tutta la mia famiglia. Hello everyone, I'm Jean Claire Suazon from Rome, Italy. Um, I am 13 years old and I'm studying in Filipino school in Italy for two years, since I was five. And now I am grade seven this year. Gusto ko pong matutong, sumayaw, omarte, magmodel, and then kumanta. Actually, my hobby is singing, but may mga times na hindi ako nakakapag-practice. I wish this Christmas na I'll be successful and then sana makita ko mga family ko from Philippines and to found love. Ciao a tutti, sono Angelica Bante, ho 11 anni e sono nata a Roma. Faccio la prima media. Io sono entrata a Kidzone perché volevo imparare a cantare, a ballare, a fare teatro e a fare la modella. E spero che a Natale sia sempre felice e che non succede più niente di brutto. Ciao a tutti, mi chiamo Miscello, ho 9 anni e frequento la Falcone Borsellino. Io sto in quinta, faccio Kidzone perché mi piace ballare, cantare e fare la modella. Io da grande voglio fare la maestra di danza e voglio passare un Natale bello. E come regalo vorrei anche che mia madre sia felice e che Dio gli dia la forza per lavorare e passare del tempo con mia sorella. Ciao a tutti, mi chiamo Catria e Giuliana Larcon e ho 7 anni e faccio sport, ballo e canto e faccio la spilata e faccio Kidzone e mi piace tanto fare Kidzone. E da grande voglio fare la puliziotta, per Natale voglio un gatto così lo posso accarezzare sempre, come io. Ciao a tutti, mi chiamo Naftali col Delfino, ho 9 anni, faccio la quinta B e sono nata a Terni il 2009. Da grande vorrei fare la stilista perché mi piace disegnare i vestiti e a Natale vorrei che tutta la famiglia si riunisca. Ciao, mi chiamo Giorgio Chiambau, sono nato qua a Roma e ho 12 anni. Io vivo a Piazza Bologna e faccio la seconda media alla Falcone Borsellino e da grande voglio fare il dottore e poi sto a Kidzone perché voglio avere nuove esperienze e mi piace ballare e cantare. E a Natale vorrei una bicicletta per stare più con i miei amici e fare qualche giri. Ciao a tutti, mi chiamo Alexa Nicole Delfino e sono nata nelle Filippini, San Pedro e Laguna. Faccio la seconda media a Falcone Sabina e faccio il corso dopo scuola di violino. Da grande vorrei fare la pittore per far vedere al mondo i miei disegni. Sono entrata a Kidzone per imparare a ballare, a cantare, a fare attore e a model. Ma il mio wish per Christmas è di tornare anche per un giorno a Tarano per rincontrare la mia migliore amica. Ciao a tutti, mi chiamo Caroline, ho otto anni, il cognome fa Giavien. Io faccio la terza A e frequento la scuola Pascoli. Io sono nata a Roma, per grande voglio fare la dottoressa e sono entrata a Kidzone perché voglio imparare le cose che non so. E per Natale voglio andare da mia cugina a divertirmi perché lei mi manca molto. Ciao a tutti, mi chiamo Anna Stefanella Landiccio e ho sette anni, sono nata qui a Roma, faccio la seconda elementare, vado a scuola Fratelli Bandiera. Sono venuta qui a Kidzone perché mi piace avere altri amici e cantare. Da grande voglio essere una veterinaria. A Natale vorrei di avere un cane. In cui giocarci e fare altre cose. Ciao, sono Danica Solosa, ho dieci anni e sono nata a Roma. Frequento la scuola Ciamicia e ne vado in quinta A. Per la mia famiglia gli auguro di meglio. Sono entrata a far parte di Kidzone perché mi piace ballare e cantare. Da grande voglio fare la modella e per Natale voglio un telefono perché almeno mi attaggio con quelli che non vedo da tanto tempo e voglio incontrare mio zio che non vedo da tanto tempo. Ciao. Grazie. 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 Grazie.